Il sistema Paese in movimento. Con questo slogan, grazie al gruppo Navale Cavour, il prossimo 13 novembre, salperanno da Cività Vecchia, a bordo della Porta E e della Merina Militare, eccellenze industriali e commerciali, associazioni umanitarie, in vista di una complessa missione che toccherà sette paesi del Golfo Arabico e tredici del continente africano. In questi mesi, inoltre, il personale militare imbarcato sarà sottoposto ad un duro addestramento impegnato in operazioni di contrasto alla pirateria. I dettagli sono stati illustrati durante una conferenza stampa tenutosi a Palazzo Barberini, alla quale hanno partecipato il Ministro della Difesa, Mario Mauro, ed in rappresentanza di quello degli affari esteri, Alberto Maria Vignali, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, l'Ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina, Imprenditori e rappresentanti del Leon Lusco Involte. Tutte le operazioni promozionali che stanno sostenendo sono un costo o forse non sono un investimento per il sistema, questa è una riflessione che vi lascio. Certo, corre tempo per vederne i risultati e cito un proverbio africano. La pazienza è come un albero, le cui radici sono molto amare, ma alla fine il frutto che esso ci dona è molto dolce. Da sottolineare il fine benefico, di cui si faranno carico il Corpo Nazionale delle Infermiere e Volontarie della Croce Rossa e diverse fondazioni che con entusiasmo hanno accettato la sfida della missione navale. Un gruppo, quello che si è presto a mollare gli ormeggi, già rodato e che ha dato prova dell'efficienza italiana all'indomani del tragico terremoto del 2010 ad Haiti. Il Cavour farà rientro in Italia ad aprile del 2014. Grazie. Grazie. Grazie.